Nuova puntata oggi per parlare di Apple parliamo di un'azienda che non ha bisogno di presentazioni e analizzeremo un po' quello che è il crollo di Apple lì per lì non potrebbe sembrare un crollo visto che poi da inizio anno se andiamo a vedere da inizio anno se andiamo a vedere prima forse un po' di più però da inizio anno sta perdendo il 10% ripeto non è un gran che se non fosse che l'indice di riferimento, il benchmark, l'S&P 500 sta guadagnando il 10% quindi alla fine è come se stesse perdendo il 20% Apple e questo chiaramente accende i riflettori su quella che è una big tech anche quindi parliamo di un'azienda di altissimo livello che fino a pochi mesi fa era anche l'azienda più capitalizzata al mondo e andremo ad analizzare anche i pro, i contro, i difetti andremo ad analizzare un po' quelli che sono i numeri cercando di fare tutto in breve tempo, meno di 10 minuti e vi dirò anche la mia alla fine della fiera questa è la verità che secondo me è la cosa più importante perché i bilanci li leggo a differenza di tanti ebbene se andiamo a vedere i bilanci i numeri parlano chiaro diciamo che Apple si differenzia in due settori ben definiti prodotti e servizi l'80% di guadagni prevengono dai prodotti e diciamo un 20% dai servizi tra i prodotti ci sono chiaramente l'iPhone, il Mac, l'iPad tutti gli accessori e invece tra i servizi ci sono il Cloud, l'Apple Store, l'Apple Music giusto per intenderci e qui secondo me qua c'è il primo problema grosso di Apple che è stato un problema ormai da un bel po' di anni e che invece è stato un grosso vantaggio per l'azienda e parliamo chiaramente dell'iPhone perché tra i prodotti la percentuale maggiore ce l'ha l'iPhone e il 52% il 52% tra l'altro del totale quindi nel totale delle entrate l'iPhone è la maggioranza e questo deve far capire quanto ultimamente sta avendo difficoltà Apple per colpa dell'iPhone che diciamo che ha delle vendite ormai stagnanti se non in diminuzione se andiamo a vedere chiaramente il mercato cinese che è il mercato chiaramente più grande al mondo sotto questo punto di vista soprattutto a livello di potenzialità ricordiamolo che negli ultimi anni c'è stata la politica dei lockdown che c'è una crisi abbastanza profonda in Cina e questo chiaramente ha avuto un impatto negativo nelle vendite di Apple se poi andiamo a vedere sempre riguardo all'iPhone ci sono i cicli di aggiornamento più lunghi quindi gli utenti tendono a tenere i loro iPhone per un periodo più lungo prima di sostituirli poi c'è la concorrenza se andiamo a vedere gli altri big in primis Samsung che chiaramente cerca di essere sempre innovativa sotto questo punto di vista e non solo ha anche un prezzo molto competitivo senza contare le aziende cinesi da Huawei a Xiaomi che chiaramente hanno tecnologie ottime e comunque un prezzo molto molto inferiore rispetto all'iPhone c'è la mancanza di innovazione che ultimamente non si vede nell'iPhone se andiamo a vedere l'iPhone 14 non è che ha portato tutte queste grosse novità rispetto al modello precedente deludendo le aspettative di molti utenti che prima ricordiamolo facevano una fila infinita per prendere subito appena uscito un iPhone quindi questi sono i problemi principali per quanto riguarda l'iPhone dal mio punto di vista ci sono molti altri problemi in primis secondo me il problema più grosso è questa mancanza di nuovi prodotti chiamiamoli rivoluzionari se andiamo a vedere l'ultimo prodotto il visore che doveva rivoluzionare il mercato e beh non dico che è stato un flop mi è andato molto al di sotto delle aspettative poi ci sono proprio stati errori strategici ultimamente proprio Apple l'ha fatta grossa secondo me perché è stata l'unica azienda delle big tech che non si è subito adeguata a quello che richiedeva il mercato per quanto riguarda tutto il settore dell'intelligenza artificiale a differenza di tutte quante le altre non hanno colto la palla al balzo e hanno cercato di continuare con i loro progetti ricordiamo che uno dei progetti che doveva andare in porto per quanto riguarda il 2024 è il progetto dell'auto elettrica di Apple e invece è stato anche lì un flop totale perché addirittura non è uscito nemmeno un modello e le dichiarazioni di Apple sono chiare a riguardo ha detto che abbandonerà non si è capito se momentaneamente o no questo settore quindi non svilupperà più auto elettriche il visore stesso era fatto per sfruttare al massimo il metaverso comunque tutto l'ambiente 3D, 4D, 5D e via dicendo tutto quello abbiere lì che praticamente è stato un flop nessuno ne parla più ad un certo punto penso che anche Apple si sia resa conto abbastanza subito in un mondo che corre in maniera veloce sotto questo punto di vista che non poteva fare a meno dell'intelligenza artificiale e addirittura è successa una cosa dal mio punto di vista incredibile che è andata a bussare alle porte di Alphabet per avere Gemini nei suoi device fino a ieri era il contrario nel senso che di solito era Alphabet che andava a bussare da Apple almeno queste sono le notizie di Bloomberg non c'è nessuna notizia diciamo di quelle ufficiali però le voci circolano e come dicevo fino a ieri era il contrario nel senso che Alphabet anzi non pagava paga ancora oggi 18 miliardi a Apple per mettere come motore di ricerca predefinito il suo Google nel sistema operativo iOS quindi è ovvio che qualcosa sta cambiando e Alphabet sta cambiando in maniera negativa per quanto riguarda Apple che dopo aver visto chiaramente il calo di vendite dell'iPhone ha cercato di puntare sui servizi infatti i servizi stanno crescendo sempre di più a livello di percentuale di entrate per quanto riguarda il bilancio di Apple ma è abbastanza ovvio che siamo molto lontani visto che i prodotti come abbiamo detto sono all'ottanta per cento anche perché i servizi chiaramente hanno un margine molto molto più alto rispetto ai prodotti come si può superare questa situazione qua? beh secondo me non sarà facile però diciamo che il successo futuro di Apple dipenderà da diversi fattori almeno tre la capacità di rilanciare l'iPhone con innovazioni dirompenti perché ormai l'iPhone non ne puoi fare a meno come abbiamo detto la maggioranza delle entrate stanno lì e chiaramente se continua a fare flop di certo c'è poco da rallegrarsi e quindi qualcosa con l'iPhone dovrà fare poi c'è la questione della globalizzazione perché se gli Stati Uniti continueranno ad avere tensioni con la Cina ebbè quel mercato è un mercato decisivo dal mio punto di vista per quanto riguarda Apple non può rinunciarci e di certo questo non sarà una buona cosa quindi dovrà trovare una soluzione come per esempio ha fatto Invidia che c'è stato chiaramente una legge che vietava i processori di ultima generazione di essere venduti in Cina ebbè ha fatto dei chip proprio adatti per il mercato cinese aggirando un po' questa regola e poi chiaramente c'è la questione dei servizi che è fondamentale cioè incrementarli incrementare subito la percentuale di entrate per quanto riguarda i servizi secondo me non è che c'è molto da girarci intorno lì Apple deve assolutamente aumentare quella percentuale per diversificare il business giusto per intenderci qui c'è poco da dire e poco da fare perché comunque c'è dell'ottimismo su un'azienda come Apple perché Apple secondo me a differenza di molte altre aziende forse quasi tutte non è che ha dei clienti ha dei propri fan che vedono Apple come una sorta di religione e quindi su quel punto di vista lì sta abbastanza tranquillo oltre ad avere dei servizi che chiaramente sono all'interno di una piattaforma dove essenzialmente è difficile uscire non a caso sia in Europa sia in America viene più volte multata ultimamente perché praticamente sta avendo un monopolio sui prodotti chiaramente che sono all'interno dell'Apple Store giusto per cercare uno ma di tutto il sistema Apple quindi non fa sì che chiaramente ci sia una libera concorrenza e questo chiaramente viene multato dai vari stati personalmente io sul sito giuseppecioscia.com trovate tutti i link sull'info della puntata o sulla descrizione della puntata beh se volete anche investire su Apple ma investo su tutte le azioni del mondo io uso il mio metodo che usa margini di sicurezza del 30-40 ma anche 50% sulle azioni quindi anche se scendono del 50% io comunque guadagno e quindi uso una metodologia molto chiara andate sul sito vi iscriveteci a un video gratuito dove chiaramente vi spiego tutto per qualsiasi informazione chiaramente mi potete sempre contattare ci sono anche qui tutti i link c'è Whatsapp andate sul sito c'è proprio Whatsapp diretto dove potete fare tutte le domande e a me non resta che ricordarvi ragazzo che il mercato finanziario è una guerra e che voi siete sempre sotto il fuoco nemico e che voi Grazie a tutti.